Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Dune Spice Wars. Ecco, questo non è un video che vi insegnerà a giocare, questo ve lo dico subito, ma è un video che vi mostrerà le caratteristiche di questo titolo e vedremo quanto Fancom, il sviluppatore insomma del gioco, quanta cura ci ha messo nel realizzare questo titolo. Ovviamente si ispira al film, alla serie, al lore di Dune, Dune insomma. Tra l'altro io non l'avevo mai visto e per affrontare questo gioco, per provarlo, l'ho già provvicchiato un po', mi sono guardato il film dell'84, dato che più o meno negli anni in cui sono nato io non l'avevo mai visto. Non mi ispirava, non lo so, l'ho guardato, mi è piaciuto, per quanto ho iniziato magari a non capirci da subito, però alla fine è veramente un film veramente interessante. Hanno fatto anche una reinterpretazione recente con un nuovo film, ma questo poco c'entra con il gioco. Il gioco riprende, e ve lo spiego a grandi linee, c'è questo pianeta in questo sistema dove viene prodotta una spezia, spice appunto, una spezia. La spezia viene usata per tante cose, un bene che viene scavato dalle profondità dei deserti di questo pianeta e questa viene usata per tantissimi scopi, viene definita anche una droga e serve praticamente anche per viaggiare con delle navi, delle astronavi che viaggiano senza muoversi usando appunto questa spezia. La spezia ovviamente è al centro di una guerra tra varie fazioni. Iniziamo una nuova partita e abbiamo la scelta, la prima scelta importante, la casata. La casata Eides, che è quella poi del protagonista del film, la casa Raconnen, i contrabbandieri e i Fremen. I Fremen, sfortunati in tutto questo, sono gli abitanti del pianeta su cui si trova questa spezia. Quindi ogni razza iniziale, ogni fazione iniziale, vi dà un bonus diverso. Ovviamente, vedete, in questo caso i Fremen non hanno accesso all'Anstrad. Invece qui, invece, ce l'abbiamo, insomma, penso sia il territorio gestito da questi, insomma, da queste due fazioni qui, insomma, l'Impero, perché poi nel film, allora c'è anche l'Imperatore. Posso usare l'annessione pacifica? Vabbè, quello che facciamo è iniziare subito. Possiamo scegliere due consiglieri e tutti e due i consiglieri ci danno dei bonus. E praticamente ci viene insegnato sotto se è difficile o meno la gestione. Praticamente io prendo questo, che mi dà tutti i beni ottenuti dei rapporti con questo slur. Aumentano 0%, meno 10 costrutturità, ok. E poi io ho preso lei nella prima partita, però ne prendo uno facile, magari. Prendo questa. Come ho detto, non vi insegnerò a giocare. Lo proviamo, lo vediamo, perché il gioco costa 29 euro, non costa poco, ma è stato tradotto al rilascio, perché prima non lo era, in italiano. Molto interessante vedere, ecco, ve lo dico subito giusto così per... Io che non sono un fan, perlomeno ho visto il film qualche giorno fa per la prima volta in vita mia. E quindi non è come, non so, guardare uno Star Trek o uno Star Wars e dire lo conosco da quando sono nato e quindi so tutto. Ma pur avendo visto solo una volta il film, ho iniziato già a vedere quanto è curato, quanto è simile, quanto è seguito bene, realizzato bene nei vari mezzi che ci sono. Insomma, lo vedremo dopo quando scaveremo la spezia. Prima cosa che facciamo, il gioco, il tutorial, ci insegna a giocare. Dobbiamo cercare la spezia, quindi in sintesi prendiamo questo, che è un anetottero, e gli diamo la ricognizione automatica e lui andrà e esaminerà le varie zone cercando la spezia, anche se in realtà... Sì, la mappa cambia praticamente ogni volta, perché la prima volta era qua. Quindi adesso stai esaminando, ma non credo ci sia. L'altra cosa interessante è che poi c'è la diplomazia. Ci sono tante cose che vorrei dirvi, la verità. Abbiamo il rapporto della spezia, che praticamente il tasso di cambio tra il solare, insomma la moneta di gioco, e la spezia cambia. Quindi cambia di continuo. Adesso una spezia sono due solari. La tassa imperiale sono 80. In sintesi, noi scaviamo per conto dell'imperatore. Quindi noi abbiamo la nostra città, Raken, che non possiamo comunque ancora modificare, perché non abbiamo egemonia, egemonia è questa in alto. Le risorse invece sono il solare, il plascrete, plascrete, insomma per costruire, materiale solo invece che fare mille, la mano d'opera, che è molto importante, perché la manderemo anche a scavare, e quindi potrà morire, le celle di carburante per gli onetoteri, l'acqua e l'autorità. E qua abbiamo la reputazione del Lanzarad. Allora, stiamo esaminando la zona. Dicevo, il tasso di cambio cambia con i giorni, no? E noi dobbiamo pagare all'imperatore Thoth di Spezia. Ovviamente quella che abbiamo in più ce la possiamo ottenere, possiamo fare dei silos e balle varie. Ma se non paghiamo questa tassa, incorreremo in dei malus. Quindi insomma adesso io ho faretta, quindi gli faccio esaminare questa cosa, poi vado a controllarlo in automatico e lo mando già nella zona dove so già che c'è la spezia. Quindi gli dico vai lì. Per quanto inganni magari dagli screen, il gioco è uno strategico in tempo reale. Ok, abbiamo trovato la spezia, la spezia è qua. L'altra cosa importante e molto bella è che si fiede anche nel film subito. Quando voi scavate, generate, diciamo, delle onde, diciamo, sismiche, insomma, perché scavando il terreno vibra, si attira a una delle più grandi minacce di questo pianeta che è i vermi. E tra l'altro, facendo i frame-in invece, possiamo anche cavalcare i vermi, anche qui, come capita nel film. La prima cosa che andiamo a fare adesso, dato che dovremmo comunque andare ad annettare questa città e conquistarla per poter accedere a la risorsa della spezia, andiamo, allora, beh, in realtà, sì, generiamo delle unità militari, un soldato e un ranger. Possiamo fare un altro ornitottero, ma vabbè, no, qua c'è qualcosa, stiamo ricercando. Una volta che avremo conquistato la città, la città la potremo espandere costruendo ulteriori edifici. E tra l'altro, dobbiamo fare attenzione quando scaveremo la spezia, perché se arriva un verme, dobbiamo fare evacuare tutto. Questo non so cosa sia, una navetta incidentata, possiamo indagare, possiamo scegliere un agente da mandare, in infiltrazione. È profonda, e per quello che vi dico non vi insegno a giocare, perché tante cose le devo scoprire anch'io, ma può essere interessante per voi, avere un primo sguardo di questo gioco, in modo da dire, un figo potrebbe piacermi, lo prendo, perché, come ho detto, non costa poco. Intanto, andiamo, e ci appropriamo con queste due unità, vediamo se è anche una terza, che possiamo fare, che poi ci costano, ci costano un tot. Non posso farne un'altra, no, perché non ho abbastanza, niente. Yes, dobbiamo mandare avanti questi, e tenere dietro gli altri, perché attaccheranno la distanza. Adesso appena ci vedranno arrivare, qua c'è qualcosa di interessante, appena ci vedranno arrivare, inizieranno a uscire, e difendersi. Quindi conquisteremo questa zona, poi in sintesi, da profano, il film mi è piaciuto. Per quanto sia, comunque da un film classico, anni 80, però, ci sta, insomma, non è male. Ok, attacchiamo, a distanza con questi. Loro hanno due unità, ma a distanza, quindi, non sta andando malaccio, potrebbe andare meglio, rischiamo però. se battiamo subito questa, abbiamo una buona speranza, però la rischia di non, di non farcela, vai addosso, 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 addosso. sì, potremmo farcela, avvicinatevi, così magari vi facciamo più danno. Ogni unità ha un, beh, pattuglia, una regione, ok, vabbè, tutto guidato, è un tutorial che gioca un po' a nascondino, perché non vuol farsi trovare, però, dai che forse ce la facciamo, se non ce la facciamo, ok, no, ce l'abbiamo fatta. No, non ce l'abbiamo fatta? Mannaggia, dobbiamo generare altre unità all'ora, perché la prima volta ce l'avevo fatta. Vabbè, mi costa, ok, ne facciamo ancora, andiamo là e finiamo la storia, insomma. Qua abbiamo trovato dei minerali e anche un'altra navetta incidentata, vediamo, vediamo se ce la facciamo. Non è andata proprio bene, abbiamo perso proprio il pelo al pelo, però vabbè. Qua dice due unità di militari, controllo villaggi con un campo di spezie, sì, dobbiamo fare il campo di spezie adesso, cioè faremo poi l'edificio che andrà a scavare e ci facciamo anche una ranger, un'altra ancora. Non si può velocizzare da quanto visto. Iniziamo ad avvicinarci con questa unità. L'unità ovviamente quando va fuori dalla sua zona subisce un po' delle penalità e può arrivare anche alla morte. Adesso voglio vedere se si sono rigenerate le unità, perché se è successo siamo praticamente morti. Ah, ma ne sto generando senza film. No, vabbè, manca ancora una vita questo. Tanto lui continua. E poi c'è tutta la parte diplomatica, quindi possiamo andare a parlare con le varie fazioni, fare dei trattati, scambi di risorse, varie varie, per quanto poi nel film o comunque nella lore non siano in ottimissimi rapporti. Ok, dovremmo avercela fatta. Ok, la prendiamo. Possiamo scegliere l'annessione pacifica o il controllo. L'annessione pacifica è una peculiarità di questa fazione che abbiamo scelto. Quindi è interessante. Adesso l'annettiamo. Una volta che l'avremo annessa, ci vorrà un po', io lascio intanto l'altra unità qua in difesa della... in difesa, in difesa della città di Araken. Aumenteremo anche l'egemonia e vedete che al momento siamo... noi degli Atreides siamo più avanti come egemonia su tutte le altre. No, col cavolo. Ci sono i Freemen davanti. Non sono in ordine. Però adesso aumenteremo un po' la reputazione conquistando questo villaggio. Una volta conquistato avremo modo di costruire... No, devo mandargli un'altra... gli mando anche loro perché sennò non ci mettiamo troppo. Facciamo l'annessione pacifica. Una volta che noi avremo conquistato questa zona qui qua potremo costruire degli edifici ve lo farò vedere. Adesso magari stacchiamo e ci risentiamo quando avremo annesso questa città perché si fa molto interessante il fatto di poter scavare la spezia e anche qui mi ha stupito il gioco ma lo vediamo tra pochissimo. Primo sbaglio mio del gioco è che qua cliccando si aumenta la velocità. Ma intanto è passato anche il tempo e non sono riuscito a pagare la tassa imperiale. Cos'è successo? Ho perso reputazione nel l'Enzer ho perso la reputazione adesso siamo a 210 siamo nella nella media tra l'altro se andiamo a vedere anche qua vedete ancora è aumentata abbiamo 22 giorni adesso però diciamo che non sta andando proprio benissimo perché l'egemonia vedete siamo a 400 perché abbiamo preso il villaggio avevamo 250 fino a un attimo fa ma gli altri sono cresciuti tantissimo quindi siamo inferiori tra l'altro c'è anche qualcuno che sta ispezionando qua sotto questi qui e l'altra fazione insomma sta ispezionando questo territorio pensando magari di prenderlo comunque adesso il gioco si è sbloccato nella sua interessa perché adesso la missione ci dice ok di costruire vedete qua abbiamo la possibilità di costruire edifici e l'abbiamo annesso pacificamente ora possiamo andare a costruire e vedete metto in pausa possiamo costruire la raffineria per qua ci sarebbe il silo spezza perché vedete quale scorte le possiamo vendere i CHOAM per i soldi e fanno questo cambio come prima insomma non è cambiato niente oppure tenerla lì per pagare le future tasse imperiali quindi quella è una costante possiamo fare il silo appunto la fabbrica di plascarette il centro manutenzione la trappola di vento è interessante perché dall'atmosfera del pianeta recuperiamo acqua c'è il carburante perché anche quelle sono importanti perché alimentiamo tutto con quella abbiamo l'impianto di elaborazione che produce solare e l'estrattore d'acqua che è un altro tipo di estrattore e l'ufficio di reclutamento per aumentare la mano d'opera l'aerodromo per avere praticamente delle navi che trasportano navette la batteria di missili la base militare e così l'arte del governare abbiamo il polo di ricerca postazione di ascolto e così via adesso io costruisco la raffineria la metto in un punto che mi dà disponibile ok e iniziano a costruirlo la cosa interessante è questa questa è eccezionale perché la prima cosa che mi è saltata all'occhio è questo lo studio dei dialetti locali possiamo direttura fare questo meno 15 al costo di autorità per andare a un villaggio sbloccare l'edificio laboratorio artigianale quindi abbiamo questa abbiamo tutta la rete di spionaggio tutta la rete di addestramento sopravvivenza quindi più di tipo militare e materiali compositi quindi le parti modulari per le metritrici mercanti degli atraders piano grindex dobbiamo ricercare questo per fare il piano grindex per fare mi pare il cos'è al silo mi pare comunque in sintesi adesso noi stiamo costruendo questa cosa adesso la mando un po' in vacca la partita ma perché voglio farvi vedere come funziona abbiamo le unità intanto vedete che abbiamo annesso il territorio quindi abbiamo conquistato la città e abbiamo accesso a tutte le risorse della mappa e sotto intanto vedo che qua sono blu no non sono blu ma sono inesplorati però qui ah ok stiamo ispezionando sempre noi le sobrie vi avremo costruito e potremo andare a raccogliere la nostra prima spezia perché rischiamo di non pagare neanche la seconda rata imperiale ok abbiamo costruito abbiamo la mietitrice vedete la mietitrice la possiamo mandare utilizzandola possiamo attivare anche il richiamo automatico vedete guardate la cura anche del dettaglio cioè viene presa e viene portata tutte cose che comunque anche nel film si vedono perché sono tutte cose fatte giuste insomma e lo dico da completo inesperto viene scaricata qui e qui viene inizia a lavorare ovviamente adesso io non so perché qui mi da 0 di 1 di mano d'opera però possiamo darla possiamo attivare automaticamente il richiamo farlo manualmente se arriva un verme inizia a vedere se la sabbia muoversi la facciamo rientrare così anche qui è una scena che si vede nel film in cui un verme attacca una di queste fabbriche mobili qua raccoglie qua raffina e otteniamo spezia ne otteniamo 20 che inizieremo poi a usare per pagare qua abbiamo il consiglio in ogni consiglio vengono messe al voto 3 risoluzioni ogni frazione può usare i voti o l'influenza per approvare o respingere una risoluzione alcune risoluzioni speciali chiamate atti vengono sbloccate durante il gioco ogni atto ha delle condizioni di sblocco e di ammissibilità particolari che dovrai rispettare se vuoi essere eletto ok controllo delle infrastrutture per cui non abbiamo atti ma possiamo spendere qua per ok assistiamo l'enorme equipaggiamento vabbè il voto si conclude si abbiamo votato in sintesi stiamo spendendo questa questa cosa qua credo che non so che cosa sia perché non la vedo qua in alto però vabbè quello voteremo e qua possiamo ricercare non lo so non saprei addestramento sopravvivenza ok e qua stiamo scavando poi dovrebbe arrivare anche il verme prima o poi io se attivo questa funzione rientra in automatico quando niente qualcosa vediamo un po' richiesta di scambio abbiamo ricevuto una richiesta di scambio da loro mi sono simpatici allora noi inviamo questo per la scritta influenza accordo commerciale lo inviano intelligence spezia e solare io accetto ok vediamo un po' il tutorial cosa dice allora rappresentanti che visitano Arachis sono interessati in una collaborazione scientifica che di fondi per la ricerca per i requisiti ricerca 011 ok ottieni mille solari oppure eh no qua non le posso fare né una né l'altra mi davano un onnitottero sperimentare per certo questa eh non lo posso fare nessuno dei due purtroppo andiamo un po' voto del consiglio lui ha votato no? eh siamo noi i controllori delle infrastrutture cioè non mi dà l'esito dei voti boh vabbè andiamo avanti togli la pausa vediamo qua uh aspetta no hanno vinto gli Arconen sono diventati loro adesso i controllori delle hanno vinto anche le altre votazioni ma va bene risultati sì questo l'abbiamo visto qua agente non assegnato puoi segnare i tuoi agenti a varie attività ok vediamo puoi segnare agenti a varie incarichi per ricevere bonus ogni agente presenta anche una caratteristica peculiare gli agenti assegnati generano intelligence e altre risorse in base all'incarico con intelligence cosa che abbiamo ottenuto dagli dagli da quegli altri insomma con l'accordo commerciale di prima puoi lanciare missioni di spionaggio ok gli agenti assegnati migliorano il livello di infiltrazione bloccando nuove missioni ok quindi possiamo andare a spiare gilda spaziale che è quella che si occupa di acquistare la spezia in pratica che tiene un po' sotto scacco l'imperatore i chrom comprano spezia anche loro devo capire come fare ho questo agente vorrei infiltrare qualcuno in questi ma non posso missione avvelenare le riserve ok no non la posso fare perché mi serve questa no slot agente ah ok ok lo mando qua lo infiltro negli racconnen e guadagniamo punti intelligence che poi usiamo per fare le missioni ok bene e qua invece si va bene lo spionaggio ok qua è tutto tutto ben difeso qua stiamo scavando spezia vedete che abbiamo la scorta abbiamo 19 la spezia viene conservata vediamo un po' risorse previste per la prossima tassa 2,60 si dai stiamo risolvendo un pochino il problema poi vabbè bisognerà un attimino andare a conquistare anche altro voglio vedere se con una di queste unità qui posso interagire con questo e vedere che cosa riesco a prendere il movimento è molto lento infatti velocizzerò un pochino anche se non cambia più di tanto attenzione è partito un evento ride rilevato è stato rilevato nel passione del territorio questi tornando io ci ho visto allontanarci e ci fanno la ride adesso attacca e voi attaccate di persona non di persona ok bravi ci stanno facendo la ride ah ma abbiamo anche le le truppe in difesa direttamente vengono generate già con la città quindi non si è ammessi malissimo se gli date una mano a loro però perché voi due attaccate questi voi allora sono automatici ok qua vermoni non se ne vedono ancora arrivare quindi siamo messi bene attenzione altro verme delle sabbie rilevato eccolo che arriva questa dovrebbe andare via adesso combattimento in corso villaggio sotto a sedia non siamo sotto a sedia ce la facciamo però bel mole sta arrivando zio caio si è mangiato tutti tutti si è mangiato perché ha sentito il casino della battaglia non della dell'estrazione della spezia vabbè intanto però siamo resistiti all'attacco ricerca progresso abbiamo ricercato questo sblocca l'edificio base militare aumenta le squadre dell'esercito sblocca l'unità squadra con armi pesanti infatti possiamo sbloccare milizia no qua è diversa vedete la milizia è così che fate nel villaggio ma quella che fate ad Araken è diversa perché dove che cliccavo ah qua scusate si è sbloccata anche la squadra con armi pesanti cosa che faccio immediatamente faccio un paio qua cosa fate voi indaga sull'incidente da insegnare agenti recupera oggetti di valore eh ma non me lo fa non me lo lascia fare niente torniamo là sarà una cosa da fare ah qua vedete che sta trasportando tutto possiamo costruire la base militare adesso infatti sugli edifici possiamo costruire la base militare che metto qua bisogna tenere premuto fin quando la carriera perché se cliccate una volta e basta non la fa spezia siamo messi molto bene adesso riusciamo a pagare la tassa credo ah devo cercare qualcos'altro giustamente sistemi di difesa lo scelgo così batterie di missili si qua sotto vabbè allora no non si è ammessi malaccio devo pagare la tassa eh 92 mancano due giorni richiesta di comunicazione un leader vuole questo qui poi se avete visto il film sapete anche di che cosa parlo molto cortesa la presettura prenderti cura in modo così amorevole di questa preziosa terra sapendo che presto poteva sfuggire al tuo controllo questo si che è vero il turismo cioè praticamente lui vuole prendersela si c'è un po' da chiarire questa cosa della diplomazia poi se sapete di più ovviamente non trattenetevi fatemi sapere insomma potremmo pensare di andare a prendere questo questo villaggio qua per espanderci lo attaccheranno sicuramente da lontano mamma mia sta sta scattando tantissimo però noi abbiamo le armi pesanti qua quindi magari ma lanciano i missili anche dalla città l'annessione pacifica che ho fatto sfruttando l'abilità della mia fazione è lentissima è stata lentissima infatti io clicco sulla città c'è l'annessione pacifica io faccio prendere il controllo che almeno poi controlliamo anche questa abbiamo già due città adesso ok infatti sta salendo discretamente veloce sì adesso abbiamo pagato tassa imperiale pagata ha conferito ok è aumentata la nostra reputazione il cambio spezia soldi insomma è sempre uguale però qua secondo le stime quando pagheremo la prossima tassa avremo da 194 che sta aumentando ne avremo 500 sì poi ovviamente nel film poi si va a capovolgere questo sistema ma è molto bello molto bello per quanto la storia si abbastanza si capisce insomma come andrà a finire però mi è piaciuto molto più villaggi e unità militare controlli più acqua ti servirà se soffri di carenza di acqua in tuoi villaggi nasceranno disordini che porteranno delle rivolte trappole a vento raccolgono acqua in una regione ma ok in base ai venti che vi soffiano quindi noi possiamo costruire edifici facciamo quello del trappola di vento bisognerebbe esaminare anche la zona ma intanto la facciamo qua perfetto intanto iniziamo a costruirla e abbiamo questa zona quindi possiamo fare anche un'estrazione di minerali allora vediamo se possiamo spendere slot di costruzione ah ok quando abbiamo finito questo possiamo fare la seconda e possiamo fare qualcosa magari di almeno mi pare ci sia anche raffineria no? vediamo eh no qua bisogna pagare vedete si spendono questi i plus credit per farlo ma al momento non li spendo perché voglio prima iniziare a produrlo quel materiale prima di consumarlo tutto al momento ne stiamo consumando più di quanto ne abbiamo cioè ogni giorno abbiamo un introito di 13 soldi insomma meno 2 di mano d'opera che non so perché sarà che muoiono all'interno di questo caso qui boh però intanto la nostra produzione di spezie è buona assolutamente buona intanto stiamo ancora esplorando tutto l'ambiente e non abbiamo ancora egemonia sufficiente perché a 2000 si sblocca il controllo di questa città quindi andare probabilmente a modificare qualcosa qua si possono fare no allora vediamo un po' beh calcolate che gli altri sono il doppio più forti di noi tutti quindi l'ho proprio giocata male ma è giusto perché volevo parlarvi delle cose che comunque conoscevo volevo farvi vedere le cose che avevo fatto consiglio servizio militare noi votiamo per noi stessi e la propaganda imperiale ma io non capisco questa cosa qui dei voti nel senso che io aumento i voti io spendo i voti e ne ho un tot da spendere vediamo vabbè inizia la cosa di spezzare abbiamo fatto questo si vedete il tutorial è molto nascosto abbiamo effettuato anche la ricerca cioè abbiamo fatto la la missione qua da loro e credo si possa iniziare adesso anche questa attività qui impostazioni ispezioni conferisce visuale regione e visualizza i punti di interesse ok praticamente ci andrà a sbloccare una zona da vedere mandando la gente che intanto produce acqua questa zona edifici non lo possiamo più fare niente centro manutenzione vediamo che unità militari produce qua sempre le solite le milizie bisogna proprio andare a potenziare milizia a distanza faccio le milizie normale la tengo qua in difesa della città che si sa mai cosa succede oh è andata via probabilmente stava arrivando il verme ricerca progresso si può andare a fare questo adesso ok e si è andata via la miettrice è scappata perché arrivava il verme quindi devo rimandarla non evitare che precipiti il mio vedete 256 perché abbiamo interrotto la produzione quindi io la rimando risultati del consiglio i fremen hanno vinto gli racconi hanno vinto qui va bene questa non l'ho capita proprio benissimo ma va bene lo spionaggio invece sta andando ha già completato questa missione dovrebbe dircelo ok e possiamo abbiamo un altro agente che possiamo mandare infiltrazione in arachis nell'agenda spaziale praticamente queste sono le corporazioni quindi ottenere più soldi più intelligenza cioè infiltrarci nelle varie cose contro spionaggio magari anche ci mettiamo nel contro spionaggio che praticamente ogni agente punto di comando due ok sì è abbastanza complesso è abbastanza profondo mi sembra che è piuttosto fedele a quella che è la lore di Dune per quanto io la conosca poco la conosca da poco più che altro però non è un ho visto di molto peggio ispirato a produzioni grosse quindi 29 euro li vale allora calcolate che non dovrebbe esserci una al momento una campagna perché non ne ho viste insomma c'è il tutorial che guida e in italiano 29 euro li pagherei solo se fossi un mega appassionato di questo gioco perché ha fatto bene senza dubbio magari lo valuterei una decina di euro in meno sui 20 euro sì assolutamente perché se siete fan degli strategici in tempo reale di questa particolare ambientazione assolutamente sì comunque come ultima cosa voglio vedere se si può fare qualcosa lì perché qua io mi domando ma non c'è un'estrazione di pluscrit facciamo questi non si è capito cosa stanno facendo niente sarebbe una fabbrica comunque questo era il gioco questo era di un spice wars 29,99 su steam è uscito il 26 di aprile di quest'anno fatemi sapere che cosa ne pensate e alla prossima ciao 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 Grazie a tutti